Cos'hanno in comune un prete, una pescivendola, un ambasciatore, una carabiniera, un coatto, una perpetua e un muto? Carlo sono già arrivati, che faccio? Scappo! Come avvocato ti dico chiarisci subito la tua posizione, come fratello ti dico scappa e cambia identità, trovati un rifugio insospettabile! Pare morto, invece sta a dormire! E' interessato a Codesto Punto Vendita? Quella donna è un angelo, da quando l'ho vista non riesco a pensare che a lei. Ma quelle cacce sono solo i coatti. Lei deve trasformarmi da ambasciatore in perfetto coatto. E che dice la messa? Voi, mi aiuta Oscar. Pure il sacro è salomuto! Ma non era male, che hobby! Lei da oggi non si chiama più Ermete Maria Grigli, ma... Nando. I bugiardi da questa parte! E te, mo', dove stai andando? Tra i golosi? E lo so io da che sei goloso! L'insulto va lanciato. Ma vaffanculo! Che sta a fare una semina? Ma vaffanculo! Ma che mi fa rovescio? Mi sono baciata con una che è buona come il pane. Mi sai che ho colpito, eh? Perché mi guardava con due occhi. Hanno avuto tutti un colpo di fulmine. Ma ma che sta vaffanculo? Come tu fischiaranno a casa tua? Mi presti casa sua? Casa mia. Dobbiamo sloggiare perché l'ambasciatore... Deve scopà. Penso di essermi innamorata. E quando vi sposereste? Fra tre giorni. E che è sta fretta? Allora, con questo contatto Aldone non può sbagliare. Bella Nandù, ma te il cinque. Modo quattro di salutarsi colpendo con vigore usando le cinque dita. Ma quanto è bravo sto preto! Quante idee! Che modernità! Sudare! Schiuma! Piedi, fritte, squilla, mignotta. Ma che squilla? È il cellulare. Dagli europei di calcio. Da allora faccio sogni in fuori. E che bisogni? Balottelli nudo nel mio letto. Colpi di fulmine. A Natale, al cinema. I mo famo se mo stamo. De mo namo imo piamo.